Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Svolta nelle indagini dell'omicidio dell'avvocato Antonio Giuseppe Bonanno, arma dei carabinieri e polizia di Stato eseguono un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto di Barra Franca. Alle prime luci dell'alba, la polizia di Stato squadra mobile di Enna e i carabinieri della compagnia di Piazza Armerina hanno dato esecuzione, in territorio di Barra Franca, con trada camatrice agrocomune di Piazza Armerina, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale procura distrettuale antimafia, nei confronti di Andrea Bernunzo ritenuto responsabile dell'omicidio dell'avvocato Antonio Giuseppe Bonanno, avvenuto a Pietra Persia la sera del 28 settembre 2016. Il destinatario della misura cautelare dovrà rispondere dei reati di concorso in omicidio eseguito con premeditazione, riciclaggio e danneggiamento seguito da incendio. Dalle accurate indagini esperite dagli investigatori, è emerso che, nella tarda serata del 28 settembre 2016, Andrea Bernunzo, insieme a Filippo Giuseppe Marchi, successivamente ucciso in agduato mafioso, i cui autori sono stati identificati nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Caulonia, a bordo di un'auto poi risultata rubata, aveva raggiunto la dimora estiva del noto legale, ubicata nel comune di Pietra Persia.